Sono Ancia La Corpa, Presidente di Zona di Coppola Anzio 3.0. Non potremmo in realtà non esserci perché sullo spreco è una dei nostri cavalli di battata. In realtà noi abbiamo nei vari ambiti sociali, nella cultura e questo è cultura. Perché lo spreco è importante e importante da quello. Noi abbiamo dato un dato un po' di anni fa, 5 anni fa. Il nostro obiettivo è quello di prevenire e ridurlo attraverso una serie di mani pratiche. Il libro bianco non è altro che la parte statica del progetto, la parte dinamica lo è il portale. Cioè quello che io trovo sul libro bianco, lo trovo su un portale. Gli obiettivi fondamentalmente sono quello di informare. Il primo consiglio è pianificare la spesa. Il secondo consiglio è la vista della spesa perché in questo modo io non compro il soffo. Quindi non creo eccellenza.